Altra ufficialità in casa pistoiese, Emmanuel Lattellat vestirà la maglia arancione, attaccante classe 1999 Ivoriano, scuola Atalanta, con un passato recente della scorsa stagione in Serie B al Pescara, senza tuttavia debuttare. Così, nella sessione invernale del calciomercato della stagione 2017-2018, è rientrato alla casa madre, impiegato nella formazione primavera atalantina. E nello stesso comunicato, nel quale si dà notizie dell'ingaggio di Lattellat, la società comunica anche la fine del rapporto con il capitano, Giusto Priola. Poche righe per annunciare che il difensore, con il contratto scaduto il 30 giugno 2018, non sarà più un giocatore della pistoiese. Si chiude così l'avventura di Priola a Pistoia, con 67 presenze, con la dimostrazione di un grande attaccamento alla maglia e con l'essere stato un punto di riferimento nello spogliatoio, corretto, leale, in campo e fuori dal campo. Sempre presente anche nei momenti più sfortunati per lui, come nell'ultima annata, con infortuni che non lo hanno risparmiato. E noi aggiungiamo anche un capitano che resterà nel cuore dei tifosi della città e al quale facciamo un grande in bocca al lupo per la sua carriera.